Questa settimana festa grande in Umbria per il tennis perché abbiamo l'onore di avere in tour la Coppa Davis. L'originale di questo trofeo iconico, uno dei trofei più iconici del mondo anche relativamente alle altre discipline. Un flusso di gente continuo in questi giorni a Perugia che ci gratifica molto nel nostro impegno organizzativo ma per noi sono momenti di festa che risentono moltissimo del boom che sta vivendo il tennis in questo momento e dimostrano l'entusiasmo che la gente riversa nei confronti del nostro sport, giovani e meno giovani perché abbiamo tutte le tipologie come visitatori. Foligno in quanto è stata designata anche per l'anno 2023 miglior scuola d'Italia per il secondo anno consecutivo e se non erro sei volte negli ultimi dieci anni, quindi ulteriore vanto per il nostro comitato regionale anche avere la scuola tennis migliore d'Italia. Oltre a una marea di attività tra cui un altro pezzettino di Umbria che ci sentiamo partecipi di questa Coppa è anche la presenza di Francesco Passaro che a Bologna nella fase eliminatoria fu sparring partner nella nazionale che poi a Malaga ha vinto il trofeo. Quindi per noi è un momento di grandissima soddisfazione, i nostri circoli ci riferiscono di un momento molto felice anche a livello di iscrizione, di tesseramenti, soprattutto da parte di giovani quindi quello che viene chiamato adesso dalla stampa effetto sinnera si sta facendo sentire tangibilmente nelle nostre attività.